Ma bella, 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 tutto bene? Oggi ragazzi ci tufferemo in un server Minecraft straniero e adesso vi spiego anche il perché. Praticamente su questo server ho deciso di ritornarci perché ci feci un video in passato che purtroppo non è mai stato caricato, però vi spiego un attimo cosa è successo. Prima di iniziare con il video però ti chiedo gentilmente di lasciarmi giro subito un bellissimo like, per due motivi. Uno è perché giustamente oggi ho la skin da cuoco e non l'ho messa io, è una skin che mi hanno dato default, non ho mai manco capito il perché. Io sono un personaggio premium, però non mi lamento, sapete? Diciamo che questo cuoco sta cucinando un bel video per voi. E seconda cosa, dato che vi voglio tanto ma tanto bene, mi sono messo a registrare video alle 2 del mattino, esatto. In questo momento tutta la famiglia di Sva, pure Sva sta dormendo, però sapete una cosa? Il grind non si ferma. Ma detto ciò, perché in questo momento sto entrando nel kit PvP e perché vi ho detto che è un server abbastanza particolare? In questo momento vi metterò sullo schermo alcuni screen di gente che mi ha insultato, che mi ha preso in giro, che mi ha citato contro, mi ha chiamato che mi ha accusato. E sì, è successo di tutto, pure gente che mi ha chiamato fallito perché il server è chiuso. E mi hanno chiamato anche in certi modi abbastanza razzisti, che giustamente non andrò a dire nel video perché fatemi due domande. Però oggi ho deciso di ritornarci perché sono un pazzo e senza perderci in chiacchiere, in questo momento, da come potete chiaramente vedere, innanzitutto vi mostro le mie stats. Ho esattamente 0 uccisioni, 0 kills e il mio KDE di 0 perché ovviamente non ho fatto né kills né morti. Il mio intento sarà quello di tentare di dominare il server, ok? Giustamente ora riparto da 0 perché nel video precedente ho fatto una cosa come 100 kills e 7 morti, quindi sono un pro in questa modalità. E vediamo quanto siete veloci, riuscirete a mettere like prima che io prenda il kit e scenda? Avete tutto il tempo nel mondo, cioè guardate. Grazie per il like. Ora, vediamo un attimo cosa riesco a combinare, ma che sta facendo la gente qui? No, 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 detesto i campers, posso tornare allo spawn? Non posso tornare allo spawn, c'è qualcuno sopra la casa che mi si è messo a camperare sparando frecce, una cosa fastidiosissima. Bene, per chi non avesse capito a che modalità io stia giocando, è letteralmente su PvP, ok? Questo server... è un cheater, è un cheater, è un cheater, è un cheater. Non ci voglio credere, cosa è successo? Ma è un cheater davvero? Vediamo? Vediamo? Sì, sì, sta ci... E iniziamo il video così ragazzi, vi mostro il perché sto registrando questo video. Perché mi diverto troppo. Vediamo se riesco ad ucciderlo. Ok, vediamo se riuscissi ad uccidere il rito tantissimo. Ti prego, no, no, non riesco, non riesco! Stavo per morire, ci è mancato poco, ci è mancato poco. Te la prendi con me ma c'è il cheater davanti. No. Ti prego, ti prego, se riesco ad uccidere il rito. Ti prego, ti prego. Sì, sta citando palese, sta citando palese. No, 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 ok. Ti prego, facciamo così velocissimamente. No. Ti prego, vieni, vieni, no, 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 no. È inutile che citi e poi mi scappi, via, via, via. Guardate quanto cito, guardate. Guardate. No, no, perché c'è... No, non prendete me, non prendete me, no, mi arrabbio. Mi ero fatto la kill! Ladro! Mi ero fatto la kill! Comunque sì, diciamo che su questo server la gente si sbizzarrisce. Non solamente in PvP, ma anche in chat ogni tanto. Quindi vedrete messaggi strani comparire di gente che chiede cose strane. A parte i messaggi in rosso, ok? Che non capisco. Non ho ben capito se questo server sia russo, però, beh, non mi interessa. So che è un server straniero. Fino a qua ci siamo arrivati tutti. Questo ragazzo non mi muore. Oh, finalmente, la mia prima uccisione, ce l'ho fatta. Questo ha deciso di volare oggi. No, è tutto normale. Ma sì, ma è tutto normale. Non è uno staff, di sicuro. Però ha deciso di volare lui. No, ma oggi si sentiva così, un uccello. Anche lui, a forza di scombarlo, raga, sta volando. Cioè, gg's. Ho poche zuppette, quindi molto probabilmente andrò a morire. Ma ha senso di volare? Ok, no, ma ha senso, ha senso, no? Ha tutto senso, giustamente. Ho poche zuppette, non penso di riuscire a fare qualcosa. Però, teoricamente, con un comando, giustamente dovevo aspettare che il PvP si disabiliti, posso rifillare tutte le mie zuppette nell'inventario. Ok, proviamoci ora. Resilascio refill. Let's go! Quindi, in questo momento, non dovrei nemmeno... Giustamente non posso tornare allo spawn, però non dovrei nemmeno morire, perché ho il kit croccante, no? Ok, vediamo se riesco a ucciderlo. Ok, lui tipo non citta, vedete? Ok, vediamo se riesco a ucciderlo. No, 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 non scappare, non scappare, però. Ti prego, ti prego. Ok, devo usare le zuppette con la testa. Cerchiamo di ucciderlo, fargli tanti colpi critici e ce l'ho fatta, let's go! E sono attualmente ad una killstreak di... Non vedo manco la scoreboard, non so perché. Oddio, da dove viene questo? Questo è più un battle all'alcino. No, non è mica che citta pure lui, no, ti prego, ok. No, perché non prendeva knockback e si muoveva in modo strano. Si capisce comunque quando qualcuno si mette a cittare, ok? Non prende knockback. Vedete questi come prendono knockback? E guardate, la differenza di lui versus cheaters. Come ad esempio il ragazzo che ha provato ad uccidermi prima. Quello proprio, il knockback, non sapevo cosa fosse. Questa si è girato per controllare se fossi ancora dietro. Tom e Jerry a momento. Gli cerano di ucciderlo? Ok, sì, ce l'ho fatta. Ora, più uccisioni faccio, più kit sblocco. Ok, e in questo momento vorrei sbloccare il kit PVP++, tipo si chiama una roba del genere, boh. Che mi permette di avere, tipo, sharpness e se non sbaglio protection sull'armatura, boh. Roba comunque migliore. Oddio, che succede? Che sto facendo questo? Bro, pensi di essere pescato. Non mi pescare, non è che mi chiamo carpi, allora mi posso... Eh, nulla, mi ha pescato, ragazzi, GG. Sono diventato un pesce. Chi è questo? Dove sbucchi tu? Da dove sbucchi? Voglio saperlo. Dove sbucchi? Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, dove scappi? Dove scappi? Giga bro MC, bro. No, c'è qualcuno dietro di me. Chi è questo? Ma tu, ma perché mi hai tirato? Chi ti ha interpellato in questo discorso, eh? Vieni, no, vieni qua, vieni qua. Doviamo parlare, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, doviamo parlare, tranquillo. Non ti succede nulla, dicevo pure mia mamma così, quando scongeravo il pollo. Non dimmi che è pure questo kit. No, non penso, no, non penso. No, non cito, non cito, ok, no. No, oh, si è rotto l'elmo? Bro. Ok, devo rifillarmi perché sono messo male. Ok. Si è rotto. Lo sto spogliando, ce l'ho capito. Quanto devi durare ancora su PvP? No, 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 spiegami. Quanto devi durare? Non vorrei far PvP contro di te da nudo. Ok, tutto, ma abbiamo certi limiti, no? Ok, ok. L'utilità di fare sta cosa? E muori. No, chi è questo dietro? Ma chi? Ma chi è? Ma chi l'ha interpellato questo? No, è dove è andato a finire sto ragazzo? E niente. E niente. Oh, ti prego. No! Non è andato. Ah, ha quitato in CT. Oh, chi è questo? Chi, 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 chi ti ha detto di attaccarmi? Adesso lo faccio fuori, tranquilli. Non sono ancora morto in tutto ciò. Tentiamo di non morire, o almeno morire pochissime volte, ok? Quello è l'obiettivo. Perfetto. Il mio obiettivo in questo video sarà quello di non morire, o almeno ci proverò. Oppure morire massimo massimo cinque volte, se proprio è. Anche se hai dubito di morire. A meno che non possa tornare più allo spawn. Vediamo. E va bene, sto ragazzo. Che fai shifty, bro? Ma perché non riesco a ucciderlo? Tre anni per uccidere un ragazzo. Uh, c'è movimento qui sotto. Sono amici? Non mi interessa, gli ciro entrambi. Ok, ho fatto uno. Fatti due, perfetto, let's go. Ho quasi finito le zuppette e la mia armatura si sta per distruggere. È tornato Spider-Man! No, di nuovo con la... No, basta con la canna alla pesca, però. E chi è questo? Tu da dove vieni? Che sono amici, sono complici questi, non ho capito? Perché stai andando da spy? Ok, questo è il cheater. Ecco, questo è il cheater. Guardate. Guardate, guardate. A pugni, sì! Sì, qua sta il cheater, qua sta il cheater. Questo riesco a configgere e gg. GG, Raflex. No, sup! Eh, bro, eh... No, basta. Ma chi è questo? Ma perché shift? Non voglio teamare con te. Sono un lupo solitario. Com, ac, waf. Con chi sta parlando sto ragazzo? È lui, eccolo. Pi, 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 pi. Vediamo. Sì, sì, ok, croccante. Sì, croccante, croccante. Sì, disabilita la killa ora mentre cerchi di colpirmi. Uh, ucciso. Let's go. Ora, dovrei tornare allo spawn. Bra! Bra! Dovrei tornare allo spawn perché devo rifilare le mie zo... No. No, no. No, Spider-Man! Spidey, davvero vuoi fare pipì contro di me? Davvero? Spidey? Sei diventato un pochino più forte. Che c'è adesso? Run now, dog! Mi sta cedendo Spider-Man! No, 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 voglio morire da Spider-Man! Perché mi ha scritto Corri-Cane? Dimmi che sei messo a cittare. Spidey, ma che fai? Spidey! Eh no, qua ci muoio. Se non trovo una tattica per sfuggire, qua ci muoio. 100-100. Oddio, sto pure senza elmo. Oh, 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 oh. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Andiamo se riesco a fare qualcosa qui. Ti prego, ti prego. Vediamo, devo dirmi qualcosa. Non voglio farmi colpire. 16 secondi. Devo resistere, 16 secondi. 16 secondi, 16 secondi. Shit on! Ma perché sei così tossico? Cosa gli ho fatto di male, ragazzi? Ditemelo. Ok, ora, sono uscito dal PvP. Devo fare Slash Up per forza e tornare nel server. Ce lo fa così, perché se no mi rovino le stats. Vediamo se è rimasto tutto. 14 kills, 0 morti. Perfetto. Cerchiamo di... E io Carpy Castle. What do you want? Cosa vuoi da me? Cosa ti ho fatto, animale? Io ho fatto solamente PvP. Non ho fatto nulla di che. Un altro cheater! Ma perché? No, vabbè. Vediamo cosa riesco a combinare con lui. Sbandierato ovunque. Magari non sono manco cheater, sai? Probabilmente mi starò impressionando io. Oh, c'è un cheater qua in mezzo. C'è un cheater. Lo so, l'ho visto. È Nate... Non è Nate, è l'altro. Ho perso pure il nome. Ciao Isaac. No, 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 non timmo, bro. Mi spiace. Vorrei tanto, però non in questo video. Con cosa mi hai colpito, bro? Col burro. Oh! Attenzione. Ok. Uccido lui. Eh, lo so. Sono in questa festa. Come ho fatto a non morire? Oddio, strano. No, no, no. Mi scappi, non mi scappi. Sì. Oh, GG. Comunque sono in una kill streak abbastanza croccante. Se non sbaglio sono tipo a 20 uccisioni quasi. Senza mai morire. Cioè, rendiamoci conto. Chi c'è raduno qui? Lo rovino io. Let's go. Rovino tutto io. Let's go. Let's go. Let's go. Muori, muori. 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 Arrivo io. Arrivo io. Oddio. Non muore, non muore. Forse muoio io. Immaginate. No, no, no. Non voglio rovinare i miei stats. Chi è questo? È tornato. Isaac. No, però mi spia... Lo so, ti voglio bene. Ok, però non ora. Io. Quanto vuole alla gente? No, no. Mi fa... No, no. Due in uno. Due in uno. Ok. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oddio, mi sono salvato. Forse, vediamo. Vediamo, 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 vediamo. No, no, no. No, no, no. Oddio. No, 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 no. Oddio, che succede? Oh, che succede? No, no, no. Sto panicando, sto panicando. Fermi, fermi. Respira, Carpi, respira. Ce la farai. È possibile che questo ragazzo abbia altre zuppe? Ok, vediamo. Devo cercare di fregarlo in tutti i modi. Vai, vai, vai. Ok. Vai, vai. È mio, è mio, è mio. Lo cucino, lo cucino, lo cucino, lo cucino, lo cucino. Che c'ho la skin giusta pure oggi, vai. Lo cucino, lo cucino. È mio, è mio. Mangiatele le zuppe, mangiatele, che oggi sono buone. Mangiatele. È mio. E let's go. Chi è questo? Chi è che mi vuole pescare? Come osi? Come osi? Come, 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 come è niente? No, no, basta, basta. Ok, gg. Ok, vorrei approfittare di questo momento vuoto per riprendere il kit, perché non vorrei morire, ripeto. Cerchiamo di non morire, ovviamente, questo sarebbe l'obiettivo del video. Comunque, sta andando bene, ok? Mi aspettavo di peggio. Ho beccato un cheater, anzi no, due cheaters. Una persona che mi ha chiamato cane. Non fatemi domande, ok? Non ne so nulla di tutto ciò. E ora, slash refill. Let's go. Mi piace, è croccante. È disceso questo ragazzo, ma è nudo. Ok, no, non più, non è più nudo. Ebbene, l'ho ucciso. Chi è questo? Neat. Via, 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 via. Ehi, io! Quanto, ehi, io! Vuoi veramente farmi fuori tu? Chi credi di essere? Ah, ok, sì, sì, no, no, sì, sì, sì. Sì, sì, va bene, va bene. No, no, ti posso capire, ok? Ti posso capire. Tipo, tu non hai tempo, non refili le pozioni, hai tipo l'armatura in pelle, però non ne bisogna. Non ne bisogna. Mi prendi a pugna addirittura, cioè... Non l'ho capito. Dov'è? Sto tryhardando, ragazzi, non fateci caso. Ok. Ok, vai. No, no, chi è questo? Chi è questo? No, 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 si è rotto l'elmo lui, si è rotto l'elmo. Prendiamolo, 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 è nostro. C'è il kit con la velocità. Eccolo, è tornato indietro. No, 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 prendiamolo, prendiamolo, ma che fa la gente? Non lo so, veramente. Guarda che come gli ha fatto. Io vengo da lui perché lo voglio. Lo voglio morire. No, e viene da me. Ma chi è? Ma chi sei? Ma perché mi... Ce l'ha con me? Come si chiama? Leoraptor, veloci raptor. Chi è? Quanti cori mi ha tolto con quelli di... Scusatemi, bro. Mi ha impiombato in faccia. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? No, di nuovo un ragazzo di prima. Non sto capendo cosa succede. È tutto confuso. Così confuso. Muori? Puoi morire una volta per tutte. No, e non muore. Ovviamente tutti vanno contro di me. Ma chi è? Ma chi sono queste persone? Oh, e muore. E anche tu muori adesso. Adesso basta. Vi rotto le scatole. Posto. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ora mi conviene... Ho sentito passi. Mi converrebbe tornare allo spawn e prendere il kit. Magari se riesco a comprarmi quel kit PVP++ che mi permette di avere una spara con sharpness più alta. Mi riesco a fare più kills e diciamo rendo il mio gioco ancora più semplice. Ok, passiamo al sistema. Slash hub. E si ritorna. Vediamo le nostre stats. 24 kills e 0 morti. Il mio record attuale su questo server Minecraft, ragazzi, è di 27 uccisioni senza mai morire. Nello scorso video in cui giustamente giocai su questo server raggiunsi quel numero. Ora, vediamo se riuscirò a batterlo. Ne mancano solamente tre. Quindi si punta a quello. Però prima di andare, da come potete vedere, c'ho quattro ceste. Quindi sono tipo kit unlocker. Sblocco dei kit che potrebbero essere utili. Ora vediamo cosa sblocco. Cosa mi ha dato? Archer, che schifo. Ghost non lo userò mai. Che praticamente sarebbe quel kit schifosissimo che ti rende visibile. Ho ancora Ghost. Va bene. Vorrei comprare il kit PvP++. Non so dove si compri. Vediamo qui forse. No, come si faceva? Come si faceva? Esisteva un modo per potenziare il kit. Upgrade? Eccolo! 750 coin. VIP. Eh, VIP. Va bene. PvP+. E ora 1000 coins PvP++. Posso potenziarlo ancora di più? Vediamo. No, non posso. Va bene, va bene. Quindi ora in teoria ho là. Guardate la differenza. È il Meta Protection 2 e spara Sharpness 2. Lo so, non cambia più di molto. Però fidatevi. Per me che faccio PvP da un bel po' di tempo, sì. Mi riesco a farla. Devo battere la mia okeystrix, scusate. Me lo prenderò con tutti. Chi è? Di nuovo con il ragazzo di prima. Però vedete che lui non muore? Ma che armatura c'ha? E ne derite? È in pelle quello che c'ha... No, chi è? No, un citaro? No. Perché non prendi un knockback? Ok, no, no, no. Scusami, ti ho accusato troppo. Chi è? No, 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 no. E di nuovo... Scusami, mettete che è il ninja? Che è tornato indietro, vedete? Lo sa. E fa sempre così sto ragazzo. E scappa. Ok, via. Cioè, lui viene e mi attacca da dietro e poi scappa. Ok, riesco. Vai, vai. Lo mettiamo. Sirotelmo. Vieni qua. Sei mio. Sei mio. No, 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 no. Non è che vieni a sfilarmi e poi scappi. No, 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 no. Ok, prendo lui nel mentre. Dai, dai, dai. Preso, gg. Uh, c'è un bel po' di movimento qua. Sto merplendo con te. Mi spiace, ciao. E teoricamente tu, esatto, tu Vampenisi, coso, come ti chiami, dovresti essere l'uccisione che mi permetterà di battere il mio record attuale su questo server. Vediamo. Sempre se riuscirò a farlo. Vediamo. Ti prego. No. No, è tornato. E ce l'ha con me. Guardate, ce l'ha con me. È arrabbiato con me. Guardate. No, dai. Incredibile come... Come sto ragazzo giochi, però... Ok, via. Torno allo spawn. No, però, ragazzi, non si può fare così. Cioè... Capisco tutto, però non... Non è che mi viene il toss e mi snipe. Cioè, guardatelo. Guardatelo. Mi sta cercando. Guardatelo. Mi sta cercando. Guardatelo. Che va a shift a tu, Erk. Non lo capito. Ora, come al solito, approfitterò di questi momenti vuoti per rifillarmi il kit. Perché, sì, ho tutta la matura rotta e finché posso farlo, refill. Let's go. Lo farò. Vorrei toffarmi questo buco. Però, no. Mi rovinerebbe la mia key streak. Ok, vediamo. Oh. Tu te lo fai sbuchi? Però pensi di essere Batman. Ho perso tutte le zuppe per un attimo. Mori, 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 mori. Non si riesco a fare così. Faccio un panino. In acqua. No. Ragnatile. No. Ok. Ok, sei incastrato lì. L'ho preso, GG. Chi è? Chi è? Leo Raptor. Ciao, Leo. Ma tu sei il cheater, per caso? No, non penso che tu sia il cheater. O forse sì. Sì, ok. No, non è il cheater. O almeno, se lo era, non era abbastanza forte. Cegniamo questo buco. Vai, let's go. Ho la valla, spacca. Ok, ho ucciso tutti. No, è tornato lui. Di nuovo. Basta. Chi è che mi sta... Ok. Vai, vai, vai. Mori, mori, mori. È mio, è mio, ragazzi. È mio. È mio. No, no, no. Perché te la prendi con me? Basta. 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 Che ti ho fatto di male? Che ti ho fatto di male? Basta. E io, Carpy Friends. Oh? Vedi, qualcuno è abbastanza sano. Oh, ok. No, no, no. No, 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 no. È nulla, è nulla, è nulla, è nulla, è nulla. Mannaggia a me. Chi sei tu? Ok. Insidio, Raptor. Doi pensi di andare, però? Tornare lo spawn. Anche tu. No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Aiuto. Ok. Cosa pensi di fare al re del PvP italiano? Vedi qua. C'è uno invisibile. Ok. Ecco perché detestavo quel kit ghost di cui vi menzionerai prima. Ho preso anche lui. Ok. E ragazzi, l'ho totalmente nominato questo server. Cioè, non si rilano manco di dire nient'altro. Ok, chi? No, ok. Io te stiamo in team, va bene, va bene, vai. Aiutami. Aiutami a cedere lui, aiutami a cedere lui. Vai, 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 vai. Lui sei, bro? Oh, sta arrivando tutti. Vai, vai. Preso anche lui. Let's go. No, no, ti avuto io, ti avuto io. Let's go. Vai, vai. Ci diamo tutti. Vai, vai, vai. Che fa questo? A posto, preso. GG, ragazzi. Ok, devo uscire da qua perché non ho molta vita. Le zuppette stanno per finire. L'armatura si sta per distruggere. Vediamo se riesco a diseguire il comando refill. Se no, devo uscire dalla server e rientro. E poi direi basta perché ho fatto troppo PvP. Perché non faccio danno quando colpisco i giocatori? Oh, no, c'è qualcuno che mi sta venendo contro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Refill. No. No, no, sono morto. Sono morto. GG, ragazzi, è finito. E non sono morto. Yo! Yo! Ma vuoi, la massima citta, tranquillamente. Puoi volare ancora. Ma perché c'ha il libro, lui? Ma che cosa sto vedendo? Vediamo le nostre stats. 45 kills e 0 morti. Buono, buono. Cerchiamo di arrivare a 50 senza mai morire. E poi direi che con questo video abbiamo concluso. Ok, vai. 46. Forza. Oh. 47. Vai, lesco, lesco, lesco. Ne mancano tre. Oh. Oddio, che è successo? No, 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 no. 48. Lesco. Oddio. Uh. Forza, forza. Vai, 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 ti prego, ti prego. Vai, vai, ti prego. No, chi mi ruba le kill? 49? O 48? Ho preso il conto? 50 dovrei essere. 50. 50 kills di fila senza mai morire. E sono morto. Non mi importa perché finalmente ho raggiunto le 50 uccisioni di fila senza mai morire. Let's go. E nulla ragazzi, direi che con questo video abbiamo finito. 50 kills, una morte. Mi sono fatto accidere dopo aver abbottuto il mio obiettivo. E spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Diciamo che era una sfida personale, quindi non mi aspetto molto da questo video. Vi invito a lasciarmi un bellissimo like se giustamente questi tipi di video vi piacciono. E fatemi sapere se ne vorreste un altro. Ma detto ciò, noi ci vediamo domani alle 15.30 con un nuovissimo e freschissimo video. Ciao belli.